Carissimi amici, è arrivato per il YouTube e oggi finalmente proviamo un nuovo gioco di Poppy Playtime per Android, per il telefono, mamma mia! Andiamo subito in partita perché non vedo l'ora di provarlo, ma come sempre siete qui sotto tantissimi like Se like che lascerete sarà pari, personaggio e sociotopo sarà Higgy Wiggy Se invece like sarà dispari, personaggio e sociotopo sarà la bambola di Poppy Playtime Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale personaggio siete associati E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale Attivate la camparellina, anche perché qua su questo canale faccio video tutti i giorni, due video al giorno Adesso direi di partire, cominciamo subito Allora, non so ancora se considerarlo come clone brutto oppure no Lo scopriremo a fine video Nel frattempo io comunque vi tengo il disinfettante qui vicino perché non si sa mai Anche qua Mr. Poop sta qui vicino a me a farmi compagnia Ma vediamo, vediamo a fine video, tocchiamo play Ho dovuto togliere il volume del gioco perché è protetto da copyright Quindi se sentite della musichetta di sottofondo, l'ho aggiunta io Altrimenti qua mi beccavo il copyright Cominciaci in questo modo Ma che roba è? Ma che roba è? Ma insomma Aspettate, ma i comandi sono un po' strani Cioè nel senso, se io provo a girare la visuale Mettendo il dito qui sopra Non gira Devo metterla per forza qui sotto Ma che roba è? Ma dai, ma poi c'è sta barra nera qui sotto No no Seriamente? Ma sta barra nera qui fissa? Ma il senso di mettere sta cosa? Ma cosa mi rappresenta? Cosa mi rappresenta sto coso nero? Sto rettangolino nero? Non ce l'ho messo io C'è proprio nel gioco Ma dai Allora, vediamo qui Iniziamo a girare Allora, praticamente la storia di questo gioco Riprende proprio la storia originale di Poppy Playtime Noi ci troviamo qua all'interno di questa fabbrica Dobbiamo capire che cosa succede E dobbiamo fare attenzione ad Aghiwaghi Pure le stanze comunque tendono ad essere simili Ad esempio qua C'è la stanza dello shopping Solo che qua la combinazione me la dà di qua Va bene, allora Ricorda la password Verde, rosa, giallo, rosso E andiamo a mettere subito qua Verde, rosa, giallo, rosso Può diventare pure una canzone Che è sta cosa? Devo reclamare il giocattolo Ma dai Ma seriamente devo fare queste cose Allora, verde, rosa, giallo, rosso Sìììììììììììììììììììì знаетеZM Abbiamo aperto la porta degli uffici dove si trova il greppac Guardate qua Che cosa Ho il greppac Ho la mano allungabile di Poppy Playtime Vediamo qua Ma posso pure saltare Beh, buono Devo dire una cosa Sta grafica mi ricorda un po' Minecraft È come se avessero preso tipo La mappa di Poppy Playtime Per Minecraft È adattata ad un gioco Vabbè, da un lato ci può stare Vediamo un po' più playtime, un po' più cubettoso del solito, no? Allora, cos'è questa? Huggy Room, andiamo a trovare subito Huggy Wuggy Mette qua la manina Vediamo, vediamo che cosa succede Muoviti, muoviti, muoviti Guardate qua Guardate qua chi c'è? C'è Huggy Wuggy Ciao amichetto Huggy Wuggy Tutto bene, tutto bene Questi comandi, sta visuale qua che è veramente limitata Dovrebbero un po' risolverla Allora, devo trovare la chiave della Power Room Dove sta sta chiave? Eccola qua Posso prenderla così? Ah no, aspettate, è vero Ho la mano allungabile E utilizziamola, no? Ok E mo' che succede? Devo andare qua nella Power Room Che si trova di qua Va bene Andiamo subito a mettere la corrente elettrica E come si fa a metterla? Qui cos'è sta cosa? Ma no! Ma sti giocattoli che devo guardare un video No, non mi interessa reclamarlo guardando un video Non mi interessa Allora, mettiamo qua Che è sta cosa? Allora, mettiamo la mano di qua Perfetto Abbiamo attivato la corrente Quindi tecnicamente io potrei muovermi Potrei proseguire Vediamo, vediamo E intanto il nostro caro amichetto Huggy Se n'è andato via Ci ha abbandonati così Proprio come nel gioco originale Infatti come vi dicevo prima Questo gioco per telefono Riprende comunque la storia del gioco originale Una sorta di versione proprio Come posso dire? Versione basica del gioco Va? Un clone comunque che vuole essere Vuole riprendere la storia del gioco originale Vabbè, insomma Andiamo avanti Ma per il momento Non lo considererei come clone bello Non è un clone bello Però, vediamo se sarà anche un clone brutto Lo scopriremo alla fine Andiamo di qua Evitiamo sti giocattoli Perché non li voglio prendere Che mi fanno perdere soltanto tempo Allora Qui tecnicamente dovremmo trovarci Poi nella stanza Dove dovremmo mettere ad esempio Quelle chiavi cubettose Che ancora non so come chiamarle Ed eccole qua Cosa c'è? Monopattino? Ma no Ma di nuovo sti giocattoli Ma non li voglio Ma perché mettono ste cose? Ma il senso di mettere sti giocattoli Sparsi per la mappa Perché devo guardare un video Devo guardare un video Per reclamarli Allora Qui sopra Cosa c'è? Qui dovevo mettere le chiavi cubettose Che Allora Qui nel gioco vengono chiamate batterie Ed effettivamente Forse è meglio chiamarle batterie Ora che ci penso Abbiamo trovato finalmente il nome Per quei cubetti Che noi mettiamo Le batterie Andiamole subito a cercare Qui ce n'è una Prendi qua la batteria Sì Batteria presa Batteria presa Qui invece c'è qualcosa C'è qualcuno Ma se io metto qua la mano Succede qual Ah no Beh giustamente Ho bisogno della mano destra Per poter proseguire Ah guardate qua Quando io prendo una batteria Si illumina qui la torretta Dove Essa è associata Ah qui c'è un'altra Perfetto Andiamo le altre due Dove stanno Uh Ne abbiamo trovato un'altra di qua Insomma è veloce E vai avanti E non ti bloccare Non ti incastrare Vai ci manca soltanto più L'ultima batteria elettrica E poi possiamo proseguire Dove si trova Dove si trova State qua Da questo lato si può trovare Ah eccola qua L'ho trovata L'ho trovata E qui sopra Spostati Vai avanti Vai avanti E allora E allora Si E mo che devo fare Ah ecco Guardate lì Si mi hanno droppato finalmente L'altra mano La mano destra Per poter proseguire All'interno di questa Nostra nuova avventura All'interno della Poppy Playtime Factory Nella fattoria di Poppy Playtime No no Non è una fattoria Nella fabbrica Nella fabbrica Non è una fattoria Cosa vediamo Aghi wagi Modalità contadino Che si mette a coltivare i campi Vabbè Allora Direi di scendere Se riesco Sì Ce l'ho fatta scendere Perfetto 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 Adesso ci stiamo facendo caso Eh no ma dai Non lo voglio vedere Sto cosa Non c'è qui di lato Vi faccio vedere qua La leva per muoversi Cioè io devo andare qua Come se stessi giocando Senza interfaccia Anzi senza mezza interfaccia Perché non c'è la leva E quindi adesso posso mettere qua Mano sinistra da un lato E mano destra dall'altro lato Vai Caricatevi elettricamente E possiamo proseguire Aspettate Voglio fare una prova Io metto qua la mano Vediamo fino a quanto si può allungare Così per curiosità Fino a quanto posso allungare sto braccio Ma guardate qua Ma dai Cioè no no ma seriamente Ah ok No 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 seriamente Non ci posso credere Ma fino a quanto si sta allungando sto braccio Per quanto si sta ancora allungando No 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 Il giocattolo da reclamare Non lo voglio reclamare Non lo voglio reclamare Ma cosa Aspettate È veramente lunghissimo Cioè non c'è limiti Alla lunghezza di sto braccio Va bene Direi di proseguire allora Andiamo avanti qua con la nostra nuova avventura Nella Poppy Playtime Factory Proseguiamo Proseguiamo Evitiamo soltanto qui quel giocattolino Che non lo voglio prendere Mi fa perdere soltanto tempo Ok Evitato Evitato Perfetto Andiamo avanti Andiamo avanti Che devo fare qua Seguo le frecce Seguo le frecce che mi porteranno Non so dove E che posto è questo Cos'è Ah devo trovare Tutte quante le switch Per aprire Il laboratorio dei giocattoli Presumo che sia questo Il laboratorio dei giocattoli Presumo Sì Però la porta è chiusa Cosa devo fare qua Dove si trovano Sti interruttori Sti switch Ah forse sono questi Aspetta Sì Sono questi qua Ah boh Devo premere soltanto Sti pulsanti E li faccio subito Li faccio subito Ci metto Due secondi Ma ste bambole Così a terra No seriamente Per un attimo Pensavo che fossero Le bambole di scary doll Che sono venute a prendermi Ma dai Allora Metti qua Perfetto Adesso Dovevo trovare L'altra che si trova Da questo lato Ok Adesso devo trovare Le cinque batterie Per far partire La toy machine Dove stanno Queste batterie Dove stanno le batterie Ma io posso proseguire Di qua così Per curiosità No Devo trovare le batterie Ma dove sono Dove sono Non le vedo Non le vedo Oh batterie Dove vi hanno piazzato Dove siete Io non le vedo Io non le vedo Ste batterie Qua Stanno da questo lato No non stanno di qua Ste batterie Dove sono Ma cos'è Ma mi si è baggato il gioco Mi si è baggato il gioco Perché qua non compaiono Non ci sono le batterie Ah aspettate Devo mettere le mani qui sopra Non l'avevo vista quella cosa Effettivamente Sì ma mi danno degli indizi sbagliati Mi dicono di trovare le batterie Ma non Eh se mi dite di fare le batterie È ovvio che mi metto a cercare delle batterie Ma allora Insomma Su E datemi chiaramente le indicazioni di sto gioco Datemele chiaramente Ok Adesso devo trovare le batterie Qua staranno da queste parti Ah ok Sì stanno di qua Ma se Ah ok Posso pure avvicinarmi Senza Per forza allungare il braccio E così metto a fare pure un po' di parkour Aspettate Aspettate Non vorrei dire Ma io posso uscire fuori la mappa Con il parkour Aspettate Ci provo 3 2 1 Vai Sì Guardate Io posso andare persino fuori dalla mappa Posso uscire fuori dalla mappa Ma non ci posso credere Non ci posso credere Ma quanto è l'etame sto gioco Quanto è l'etame Eh sì Allora Dopo sta cosa qua Entra di diritto nella categoria dei cloni brutti Perché in un gioco clone normale Non dovrebbe accadere una roba del genere Quindi Vai Senza volerlo Stiamo facendo un video della serie dei cloni brutti Scommetto che il disinfettante Non vedeva l'ora di essere preso E utilizzato Non vedeva l'ora Ma che roba Ma che roba Ma ditemi un po' di sto passo Io sto disinfettante lo finisco Nel giro di qualche giorno E anche qua Mr. Poop è contento Di vedere qua un clone brutto Non ci posso credere Non ci posso credere No seriamente Io oggi non volevo fare un video sui cloni brutti Ho trovato sto gioco sul play store Sembrava carino Ho detto Ma portiamolo E invece E invece ci ritroviamo a fare cloni brutti Prendi qua Ok Devo trovare ancora le altre batterie Ok Perfetto Dove stanno le ultime batterie Qui ce n'è una Ok 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 Perfetto Devo prendere qua l'orsacchiotto Per sbloccare l'uscita Dove sta sto orsacchiotto Ah si sta creando qua Giustamente Qua c'è pure lo stesso procedimento Come su Poppy Playtime E fra poco dovremmo prepararci Perché mi sa Che qua all'interno di questo gioco Una volta preso l'orsacchiotto Compare No Ma dai Ma mi si era bloccato Ma dai Il click per rivivere Non funziona Non funziona Il click per rivivere Ma quello che è Ma non ci posso credere Non funziona Ma dai Ma mi tocca rifare tutto da capo Mi tocca rifare Ma poi è comparsa all'improvviso Ghiwaghi È comparsa all'improvviso Ma datemi almeno il tempo Ma subito è venuto a correre Ma Ho rifatto sta parte Perché mi sembra comunque inutile Farvi rivedere di nuovo qua Tutto sto percorso di prima Mamma mia La disperazione per me La disperazione Che poi non vorrei dire Ma me l'hanno fatto spawnare Troppo vicino a me Non mi hanno dato neanche il tempo Di trovare un posto Dove potermi muovere Cioè ma poi Via No 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 Pure il labirinto addirittura Pure il labirinto Ma non so dove devo andare Non so dove devo andare Di qua Provo a vedere di qua Sta strada Non lo so Non lo so Io sto andando a caso Stavo pure sbagliando No 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 Aghiwaghi No 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 Il visuale Non ti bloccare Non ti bloccare Mamma mia Mamma mia Il visuale Sì Ce l'abbiamo fatta Oh Ma che roba Ce l'abbiamo fatta Clicca qui Ah Siamo riusciti a completare Va bene Non mi faccio troppe domande Non mi faccio troppe domande E' andata così E' andata così Quindi che dire Per il momento Direi di finire quel video Qui mi dice che tra l'altro C'è pure un secondo capitolo In arrivo Avrei paura Avrei paura del secondo capitolo Ma vabbè Se vi dovesse piacere Fatemelo sapere Che potrei riportare Una seconda volta Nel frattempo Mi faccio qua Una bella cura di disinfettante Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Mi dite piaciuto Se vi piace Mi racconta Spallicciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo il prossimo video Come sempre Vi auguro Per giornata Per giornata Ciao a tutti E buon panino a tutti